E in tutte le librerie il nuovo libro di Anna Terlimbacco, Silvestro Fragnelli, una lunga storia di amore. Anna, vogliamo svelare qualche particolare di questa lunga storia d'amore? Silvestro Fragnelli, una lunga storia d'amore, è la lunga storia d'amore di Silvestro Fragnelli con la vita e la sua arte casearia. È il racconto di una storia di successo, la storia di un martinese che con coraggio, forza, determinazione, voglia di farcela, ha sfidato la sorte, gli eventi, la paura ed è stato capace di costruire nuove opportunità e nuove speranze per se stesso e anche per altre persone. La racconteremo insieme, la storia di Silvestro Fragnelli con Silvestro, domenica 23 giugno al Parco Hotel San Micheli.